Sanità, cambiamenti al vertice dell'ospedale e del distretto sanitario, un unico direttore? Trasferimenti ai comuni, la Corte Costituzionale dichiara illegittimi tagli ai comuni del 2013, i comuni valdianesi potrebbero richiedere la restituzione di 1,6 milioni di euro. Rifiuti, il 6 febbraio elezione consigliato, due candidati del Vallo di Diano. Montesano sulla Marcellane, il comune regala la guida eccomi a tutti i neogenitori. Sport, calcio, valdiano senza due pedine ospita la Battipagliese, tutte le gare del fine settimana. Buonasera e bentrovati ad un nuovo appuntamento con il nostro Tg. In apertura parliamo di sanità. Tra i cambiamenti in atto nel servizio sanitario valdianese, alcune voci parlano di un eventuale accorpamento di funzione e direzione per ospedale e distretto. In tal senso abbiamo raccolto ai nostri microfoni le parole del direttore sanitario del presidio ospedaliero di Polla, il dottor Luigi Mandia. Vediamo. Sistema sanitario valdianese sempre in continua evoluzione. In attesa dell'attuazione dell'atto aziendale che dovrebbe portare anche nuovi medici e un potenziamento di alcuni reparti, con l'inevitabile però perdita di altre, nuove voci parlano anche di novità che potrebbero essere introdotte anche nella direzione non solo del presidio ospedaliero di Polla, ma anche del distretto sanitario. Pare infatti che il direttore generale dell'Asla Antonio Giordano potrebbe decidere di optare per un solo dirigente a capo dell'intero servizio sanitario valdianese, un solo direttore sanitario sia per il distretto che per l'ospedale. Dopo la perdita del direttore amministrativo con il trasferimento a nuovo incarico assegnato dal precedente Edmondo Iannicelli, il Vallo di Diano andrebbe, secondo alcune voci, a perdere un'ulteriore figura direzionale. Si tratta naturalmente di ipotesi e di voci che potrebbero però non trovare conferma. Certo, come ha dichiarato anche il direttore sanitario dell'ospedale Luigi Curto di Polla e il dottor Luigi Mandia, ci saranno dei cambiamenti. Ci sono dei momenti di riorganizzazione in corso e nell'ambito di questa riorganizzazione c'è la condizione per la quale nel territorio del Vallo di Diano ci sarà un'unica direzione fra distretto ed ospedale. C'è un avviso di selezione in corso, poi sicuramente sarà sempre Salerno che sceglierà secondo quelle che sono le necessità aziendali, le strategie aziendali. Se anche io dovessi essere mandato via non credo che possa essere un problema più di tanto. Sicuramente sarà l'azienda a scegliere bene e chi eventualmente dovrà essere qua dopo di me sicuramente sarà più capace. Rimarrà un solo direttore proprio sanitario quindi per tutto il Vallo di Diano e per tutti i servizi sanitari a questo punto? Non mi è dato di sapere questo, non credo per la verità. Ci sarà un'organizzazione diversa, molto probabilmente un'ipotesi di lavoro interessante perché ci sarà la possibilità di raccordare il territorio con l'ospedale. Queste sono le differenziazioni che ci siamo inventate un po' noi tecnici, gli ammalati sono gli stessi sia sul territorio che in ospedale. Ci sarà un'organizzazione diversa. Cambiamo argomento. La Corte Costituzionale con sentenza dell'aprile 2016 ha dichiarato l'incostituzionalità dei tagli effettuati dal governo per quanto riguarda i fondi destinati ai comuni per l'anno 2013. Soldi previsti nei bilanci e quindi dovuti. I comuni potrebbero richiedere questi fondi mai ottenuti dallo Stato e al Vallo di Diano spetterebbe una cifra di oltre 1 milione e 600 mila euro. Nel prossimo servizio vediamo la situazione per ogni comune del Vallo di Diano. Una sentenza della Corte Costituzionale potrebbe restituire ossigeno ai comuni del Vallo di Diano, ossigeno economico per intenderci con un importo di oltre 1 milione e 600 mila euro che potrebbero tornare di diritto nelle casse comunali in virtù della sentenza della consulta numero 129 del 6 aprile 2016 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 16,6 della legge 95 del 6 luglio 2012 nota come spending review varata dal governo Monti e che proprio nell'articolo in questione stabiliva la riduzione dei trasferimenti statali ai piccoli comuni a partire dall'anno 2013 e per gli anni successivi e stabiliva i metodi di definizione delle riduzioni dei fondi. Il comune di Lecce a suo tempo presentò il ricorso contro il Ministero dell'Interno al Tarlazio nel 2014 dando vita ad un percorso giuridico che è culminato con la sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'articolo solo per quanto riguarda però l'anno 2013. La consulta ha infatti ritenuto fondate le motivazioni proposte in quanto una riduzione di trasferimenti di risorse economiche ai comuni a esercizio finanziario in corso avrebbe inevitabilmente danneggiato l'autonomia finanziaria dell'ente e il buon andamento dell'amministrazione andando anche ad incidere nel bilancio previsionale che nel 2013 contava sulle entrate dei fondi in questione non avendo ricevuto preventivamente informazione. Da qui l'illegittimità costituzionale della riduzione solo per l'anno 2013 anche se solo per un anno i comuni del Vallo di Diano potrebbero vedersi restituite somme ormai dimenticate e che visti gli importi potrebbero restituire un po' di respiro ai piccoli comuni costretti troppo spesso a dover cercare di far quadrare i conti. Sulla base di questa sentenza il comune di Sant'Arsenio con il commissario Ada Ferrara ha già dato disposizioni per richiedere il rimborso di quanto indebitamente trattenuto dallo Stato vista la sentenza della Corte Costituzionale. Con delibera dello scorso 24 gennaio al commissario è stato dato mandato di presentare al Ministero delle Economie e delle Finanze e al Ministero dell'Interno la richiesta di rimborso dell'importo dovuto nell'anno 2013 di euro 91.239,22 euro. Ma non è solo il comune di Sant'Arsenio che nel 2013 ha subito il danno e che avrebbe quindi diritto al rimborso. Tutti i comuni italiani e quindi anche valdianesi possono presentare richiesta di rimborso. Richieste che se andrebbero a un buon fine restituirebbero cifre importanti agli enti che non riescono a far quadrare i conti. Per ciò che riguarda il Vallo di Diano potrebbero tornare nelle disponibilità delle casse comunali una cifra che supera notevolmente il 1.600.000 euro in totale per tutti i comuni. Nel dettaglio vediamo che Sala Consilina spetterebbe il rimborso di oltre 368.000 euro. Anche a Teggiano spetterebbe un bel gruzzoletto con gli oltre 202.000 euro. Segue quindi Montesano sulla Marcellana a cui spettano poco più di 186.000 euro, Polla praticamente di 154.000 euro e Padula con i quasi 117.000 euro di rimborso. Anche per Sassano si supera la cifra, seppur di poco, di 100.000 euro di rimborso che possono essere richiesti allo Stato. Rimborsi comunque che possono richiedere tutti i comuni. Caggiano avrebbe diritto a 77.000 euro di rimborso. Sanza 67.000 euro. Atena Lucana più di 62.000 euro. Buon abitacolo, comune al momento in notevole sofferenze e commissariato, potrebbe vedersi restituire la somma di ben oltre 55.000 euro. Somma importanti anche per Monte San Giacomo con oltre 41.000 euro. San Pietro Altanagro che ha diritto alla restituzione di poco più di 40.000 euro. Auletta di più di 34.000 euro. San Rufo 27.000 euro. Casa Albuono con i quasi 26.000 euro. E infine Salvitelle di 24.000 euro. Importi di enorme rilevanza, viste le piccole realtà a cui sono stati tolti. Un'iniziativa partita dal commissario di Sant'Arsenio ma che potrebbe dare respiro a tutto il Vallo di Diano se davvero tali somme venissero restituite dallo Stato e comuni, a patto che ne presentino richieste in base alla sentenza della Corte Costituzionale, che ormai, da diversi anni, versano in sempre maggiori difficoltà dovute proprio alla carenza di risorse economiche. E prende forma il nuovo assetto organizzativo territoriale in materia di gestione del ciclo dei rifiuti. Infatti il prossimo 6 febbraio saranno eletti i consigli degli Ato, così come designati dalla legge regionale numero 14 approvata il 26 maggio scorso dall'Aggiunta, presieduta dal presidente Vincenzo De Luca. Lunedì prossimo 6 febbraio i sindaci o i loro delegati saranno chiamati ad eleggere i propri rappresentanti all'interno degli Ato, gli ambiti territoriali ottimali. Saranno infatti eletti i consigli degli enti d'ambito, così come disegnati dalla legge regionale di riordino del ciclo dei rifiuti, approvata a maggio scorso dall'Aggiunta guidata da Vincenzo De Luca. Prende quindi forma il nuovo assetto organizzativo territoriale in materia di gestione del ciclo dei rifiuti. Sette sono gli Ato in cui è suddiviso il territorio regionale. Quello di Salerno comprende, oltre ai 158 comuni dell'intera provincia, anche tre comuni dell'Avellinese, Caposele, Calabritto e Senerchia. Il sistema elettorale è quello usato per le elezioni provinciali, quindi il voto ponderato. Di conseguenza, i voti dei sindaci dei comuni più popolosi barranno di più rispetto a quelli dei primi cittadini e delle amministrazioni più piccole. I comuni sono stati divisi in tre fasce. Fascia A, da 150.000 a 30.000 abitanti. Fascia B, da 30.000 a 5.000. E fascia C, sotto i 5.000 abitanti. 22 in tutto saranno i componenti del Consiglio, che saranno eletti e che poi dovranno individuare il Presidente. 5 le liste presentate, 3 di centrosinistra e 2 di centrodestra, che sarebbero 2 per la prima fascia, 2 per la seconda e 1 per la terza. In campo, 30 aspiranti consiglieri e il Vallo di Diano esprime due candidati. Entrambi rientrano nella fascia B. Si tratta del sindaco di Polla, Rocco Giuliano, che corre con la lista Campania Pulita di centrodestra, e dell'assessore all'ambiente del Comune di Sala Consilina, Vincenzo Garofalo, con la lista Insieme Ambiente di centrosinistra. Cambiamo argomento. L'Italia è al primo posto nel mercato europeo dei giochi online. Lo rivela uno studio riportato dalla rivista Siemens, che evidenzia soprattutto come negli anni della crisi ci sia stato un aumento del volume degli affari legati al gioco. Un recente articolo pubblicato sulla rivista Economia del Mezzogiorno ha disegnato un quadro sconfortante per quanto riguarda il fenomeno del gioco d'azzardo in Italia. Sulla base dei dati dell'anno 2013, ultimo anno per il quale è ripartita territorialmente, si evidenzia come, scrivendo nell'articolo Annunziata dei Felici e Isabella Martucci, nel periodo più acuto della recessione economica, l'incidenza e della raccolta del gioco d'azzardo sul PIL ha toccato i picchi di oltre il 5% nel 2012 e del 4,4% nel 2013. E mentre si assisteva ad una contrazione della domanda interna dei beni e servizi e i consumi delle famiglie calavano del 3%, i giocatori hanno se stuplicato l'ammontare delle spese per il gioco d'azzardo, a guadagnarci soprattutto lo Stato che ha il monopolio. Nel 2012 il giro d'affari ha toccato gli 84 miliardi, comprendendo tutti i diversi giochi gestiti dai monopoli e dai quattro casino esistenti sul territorio italiano, l'otto, superena l'otto, lotterie nazionali e gratte vinci, scommesse sportive, a base ippica, bingo, apparecchi elettronici come videopoker. Lo studio evidenzia come la spesa destinata al gioco è maggiore nel nord, dove il PIL pro capite si attesta attorno ai 33 mila euro o li supera, dopo la Lombardia, regione in cui nel 2013 sono stati raccolti 13 miliardi, di 905 milioni, pari al 19,5% del totale, figurano in graduatoria il Lazio, PIL pro capite di circa 28 mila euro, e la Campania, dove il PIL pro capite è di circa 16 mila euro, rispettivamente con l'11,1% e l'8,9%. I giochi a base sportiva sono di gran lunga la prima scelta per i cittadini campani, con una raccolta di 542 milioni di euro. Secondo gli studiosi, oggi il nostro paese occupa il primo posto nel mercato europeo dei giochi online, avendo raccolto nel 2012 circa 15 miliardi e mezzo, seguita dalla Francia, distaccata a 9 miliardi. Tutti attratti dalla possibilità di entrate facili, ma che molto spesso si traducono in un'ulteriore miseria e si sfocia nell'adultopatia, la fascia più deboli e i giovani restano le persone più ad alto rischio. Ora andiamo a Montesano sulla Marcellana, dove l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Giuseppe Rinaldi lancia una nuova iniziativa a favore di tutti i neogenitori. Eccomi è la guida pratica contenente tutte le informazioni utili che possono servire ad una coppia alla nascita di un figlio. Un'altra iniziativa degna di nota, quella intrapresa dall'amministrazione comunale di Montesano sulla Marcellana, guidata dal sindaco Giuseppe Rinaldi, a favore di tutti i neogenitori. Eccomi è il nome della guida pratica contenente tutte le informazioni utili che possono servire ad una coppia alla nascita di un figlio. Vi sono indicazioni su certificati anagrafici, bonus bebè, assegno di maternità, scelta del pediatra, iscrizione all'asilo nido, vaccinazioni, numeri utili degli uffici pubblici, congedi parentali e tanto altro. La guida sarà consegnata da oggi in poi a tutti i bambini che nascono a Montesano. Abbiamo deciso, dichiara il primo cittadino Giuseppe Rinaldi, di realizzare un segno tangibile e utile da offrire alle coppie quando hanno un figlio, unendo un pensiero di augurio e di benvenuto ai piccoli cittadini di Montesano. In una situazione demografica complessa per le nostre aree, riconoscere il valore della nascita, la bellezza di questo evento, il significato per la comunità tutta, ritengo rientra nei nostri compiti sociali, politici e culturali. Per la prima volta, continua il sindaco, abbiamo consegnato insieme ai miei assessori significativamente pochi giorni fa la guida del primo bambino nato nel 2017 a Montesano. È stata una bella emozione perché ho visto la coppia di genitori, peraltro molto giovani, sentire vicino al loro evento l'istituzione comune. Quando le istituzioni, conclude Rinaldi, entrano nella popolazione, accorciano le distanze, si rendono presenti e vengono accolte, vuol dire che si crea quella unione tra il cittadino e l'ente che è alla base del vivere civile e democratico. Andiamo ora a Sala Consilina, dove l'Istituto Cicerone amplia l'offerta formativa per l'anno scolastico 2017-2018, istituendo il corso serale di manutenzione ed assistenza tecnica. Importante risultato conseguito dall'Istituto Cicerone, sezione IPSIA di Sala Consilina, che per l'anno scolastico 2017-2018 ha ottenuto l'ampliamento dell'offerta formativa, istituendo la sezione serale di manutenzione ed assistenza tecnica, articolata nelle opzioni apparati, impianti e servizi tecnici e civili oppure manutenzione dei mezzi di trasporto. L'IPSIA istituisce questi corsi serali per venire incontro a tutti quei giovani che, abbandonati gli studi, hanno deciso di mettersi nel mondo del lavoro sprovvisti di diploma, permettendogli di conciliare studio di impegni lavorativi. L'Istituto Salese, da sempre punto di riferimento per il Vallo di Diano, permetterà ai frequentanti di conseguire la qualifica di autoriparatore nelle funzioni di meccatronico, di carrozziere e di gommista, fatte salve le esperienze acquisite a coloro che, frequentando specifici corsi, conseguono il relativo diploma. Presso gli uffici di segreteria dell'Istituto Cicerone, già attiva la possibilità di effettuare l'iscrizione al corso per l'anno scolastico 2017-2018, anche durante l'intera giornata di oggi, sabato 4 febbraio e di domenica 5, in occasione dell'Open Day. Parliamo di un importante passo in avanti per il Vallo di Diano, che denota come le istituzioni locali rivolgono una maggiore attenzione alle esigenze dei cittadini anche dal punto di vista culturale, cercando di garantire adeguata istruzione anche a chi ha abbandonato troppo prematuramente gli studi. Andiamo avanti. Ogni sabato Rai 3 visita un borgo della Regione Campania per presentare e far conoscere le numerose eccellenze di cui la Regione è ricca dal punto di vista storico, culturale, enogastronomico, artigianale, senza trascurare la ricca tradizione dei diversi piccoli comuni. Questa mattina il giornalista di Rai 3 Rino Genovese è stato a Casella in Pittari, con le telecamere del Tg itinerante in onda tutti i sabati durante il Tg3 delle ore 14 per presentare, accompagnato dal sindaco Maurizio Tancredi, le tipicità e le eccellenze del piccolo borgo. Casella in Pittari in festa quindi con la presentazione anche di balli e delle attrazioni culturali dell'area. Particolarmente interessante è il momento gastronomico che ha permesso di presentare anche l'iniziativa che un gruppo di albergatori e ristoratori sta attivando con la realizzazione di una rete culinaria che mette insieme diversi ristoratori, ognuno con una propria specialità, in grado di riuscire così a creare un paniere di interesse turistico. Tutti i ristoratori del posto hanno portato e presentato alcune ricette tipiche della tradizione culinaria di Casella in Pittari. Alla gastronomia si sono aggiunte anche le presentazioni di lavori artigianali, il tutto presentato nella piazza dell'antico borgo consentendo alle telecamere di riprendere il centro storico da diverse angolature. Le telecamere Rai tornano dunque nei territori situati a sud di Salerno per evidenziarne tutte le peculiarità. Ora ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria. Restate con noi a tra poco con tutte le nostre notizie. Ben trovati alla seconda parte del nostro Tg. Si terrà domani a Sassano, domenica 5 febbraio, presso il Cineteatro Totò, lo spettacolo dal titolo Con la valigia in mano, interpretato da Domenico Colangelo e Nicola Linfante. Tutto pronto a Sassano dove domani, domenica 5 febbraio, il Cineteatro Totò ospiterà lo spettacolo Con la valigia in mano, evento promosso dall'Associazione Teatro del Grillo ed interpretato da Domenico Colangelo e Nicola Linfante. Nello sceneggiato, che avrà inizio a partire dalle ore 18, i due giovani artisti salesi abbineranno l'arte del teatro con la musica e l'ironia per rappresentare tutte le sfaccettature del fenomeno dell'immigrazione, ad oggi di grande attualità. Parliamo di una tematica che non riguarda solo i nostri giovani che, non trovando occupazione, decidono di cercare migliori fortune all'estero, ma anche e soprattutto dell'immigrazione clandestina, che evidenzia la disperazione di chi proviene dai paesi martoriati, dalle guerre e dalla povertà, alla ricerca di un barlume di speranza, che nella maggior parte dei casi svanisce in mare. Domenico Colangelo e Nicola Linfante, che hanno già riscosso ampio successo nella prima uscita dello spettacolo, che si è tenuto all'auditorium di Sala Consilina, non fanno altro che trattare questa tematica in maniera unitaria, come due facce della stessa medaglia, accomunate dall'abbandono della terra d'origine da parte di queste persone alla ricerca di una vita migliore, cercando di rappresentarne le sfaccettature attraverso l'arte del teatro e della musica. Ora ci spostiamo a Padula, dove domani presso la Certosa di San Lorenzo si terrà la presentazione del saggio Panem et Circenses, Vite e morte nell'arena, sul fenomeno dei gladiatori nel tessuto sociale romano. Ai microfoni di Pietro Cusati abbiamo ascoltato l'architetto Angelo San Giovanni, che ci presenta questa importante iniziativa. Questa iniziativa è nata qualche tempo fa, già venne ad Atena Lucana nel 2015, se ricordo bene, presentò il libro. Ebbe un grande successo, perché poi lui, oltre adesso, è una persona molto competente. Infatti ha collaborazioni, vanda collaborazioni con Alberto Angela, Ulisse, e anche con History Channel. Cosa tratta il libro? Il libro parla della storia dei gladiatori, la vera storia dei gladiatori, e quindi, praticamente non voglio anticiparvi, perché altrimenti tolgo il fascino alla cosa. Quello che fa è spiegare veramente qual era la vita del gladiatore, al di là di quello che si vede, e si è visto nei film anche di successo, insomma, da Spartacus, con Kirk Douglas, fino all'ultimo di Russell Claw, il gladiatore del 2000. Oltre alla presentazione del libro, che cosa esisterà? Oltre alla presentazione del libro, l'autore porta sempre in giro con sé degli strumenti dell'epoca, ricostruzioni ovviamente, ed è l'unica, verrà presentata l'unica ricostruzione degli strumenti chirurgici dell'epoca. Inoltre verrà mostrato proprio un vero combattimento, come veniva fatto, con tanto di arbitro, quindi, vi ripeto, molto molto diverso da quello che è la versione romanzata, che giustamente bisogna presentare nei film. Un'ultima cosa, ci sarà anche un mio breve intervento, perché non so quanti sanno, ad Atena Lucana è testimoniato dal 600, un teatro, forse un anfiteatro, e quindi riassumerò brevemente la storia di questo anfiteatro attraverso gli autori che ne hanno parlato nel passato. Ora apriamo la pagina sportiva con il calcio. Sfida Marcord per il Valdiano che sul sintetico di Casalbuono riceve la battipagliese dell'ex tecnico Tudisco. Mr. Criscuolo dovrà fare a meno di due pedine importanti come apparenze della femmina, out per squalifica. Proverà a portare a sette la striscia di risultati utili consecutivi il Valdiano. La formazione cara al patron cardinale sarà impegnata domani pomeriggio sul sintetico di Casalbuono contro la battipagliese. Un match sulla carta difficile visto che si affronta una formazione in corsa per un posto ai play-off. Una sfida dal sapore di Amarcord visto che la sua macchina delle zevrette c'è quel ciccio Tudisco che ha regalato la storica promozione in eccellenza e portato la squadra ad un ottimo ottavo posto nel primo anno di massima serie regionale. Ma era un Valdiano diverso quello di Tudisco un Valdiano con tanti giovani del territorio che metteva in difficoltà anche formazioni più quotate. Ora invece il mister Criscuolo ha costruito un Valdiano di esperienza che dopo aver fermato la corsa del Faiano sette giorni fa grazie al pareggio nei minuti finali proverà a regalare la quinta vittoria nelle ultime sette gare ai propri tifosi. Rispetto alle ultime uscite sono previsti dei cambi imposti dal giudice sportivo che ha squalificato per un turno a tirio della femmina Alessandro Apparenza quindi è possibile una maglia da titolare dal primo minuto per Limatola. Per il resto non dovrebbero esserci grandi novità con Cibele terminale offensivo in quella partita che è stata vietata ai tifosi ospiti per ordine pubblico. Vincere sarebbe importante per ritornare fuori dalla zona play-out siamo ancora all'inizio delle gironi di ritorno e la strada è ancora lunga ma gli appuntamenti tra le mure amiche non possono essere falliti. Si parte con un nuovo weekend in prima categoria. Intanto arrivano molte squalifiche da parte del giudice sportivo e tanti valdianesi convocati nella rappresentativa provinciale di terza categoria. Siamo alla vigilia di campionato per la prima categoria sicuramente fare i puntati sulla super sfida del Girone G con la Gregoriana che riceve davanti al pubblico amico il Real Palomonte una sfida affascinante che dirà molto su chi avrà più chance di vincere questo campionato. Guarderanno con molta attenzione a quanto accadrà tutte le altre squadre a partire dal Sassano che davanti al pubblico di casa riceve il New Mars alla ricerca della quinta vittoria consecutiva invece il Certoso di Padula in casa dell'Acquavella mentre la Pollese sarà di scena sul campo dell'Alfanese in quello che ha a tutti gli effetti uno scontro diretto in ottica salvezza. Pollese a cui il giudice sportivo ha inflitto una multa di 320 euro per l'invasione di campo da parte di un tifoso che, si legge, minacciava reiteratamente il direttore di gara rendendo necessario l'intervento dei carabinieri. Stangata in terza categoria invece anche per l'allenatore del Monte San Giacomo il tecnico Caporrino è stato inibito fino al prossimo 2 maggio perché recita il comunicato durante l'intervallo della gara si avvicinava al direttore di gara rivolgendogli ripetute ingiurie e minacce accompagnate di eloquenti gesti che non sfociavano in circostanze più gravi solo per il tempestivo intervento dei calciatori presenti. Contro questa decisione la società ha annunciato ricorso intanto siamo alla vigilia della sfida ai Black Lions formazione che ha visto tre elementi selezionati per la rappresentativa provinciale Under 23 che si ritroverà il prossimo 16 febbraio ad Oliveto Citra per un raduno agli ordini di mister Nino Belmonte tra i convocati anche l'ex Valdiano ora la Real Pertoso in terza categoria Martia Coronato e due elementi classe 99 Vincenzo Iorio della Bucinese e Mario Pagnotto del Monte Pruno Roscigno e con questo servizio si conclude questa edizione del nostro Tg vi ringrazio per essere stati con noi e vi auguro un buon proseguimento di serata Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti